a un film via vai 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 bravo 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 vai 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 torri torri bravi potrebbe esserci una volata sono i due vicinissimi vicinissimi si spinge si spinge fino alla fine vince il numero 145 seguito dal numero 127 final Daniel secondo posto Giacomo terzo posto per il numero 126 Grace che è del numero 115 Elia siamo in due non si molla fino all'ultimo metro si guarda dietro si numero 144 seguito dal numero 146 Giacomo e Evan si con il numero 143 traguardo raggiunto anche per Amor Yasem un applauso il numero 56 Linda bravissima 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 bravissima